Comprare casa con meno di 30.000 euro? Ma si può veramente? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti porto a vedere questo appartamento in vendita a Brisighella. Siamo in Via Roma, a due passi dal centro storico di Brisighella e vicinissimi sia alla stazione che al parco principale. La palazzina è composta da 4 unità, noi andremo a vedere il bilocale al piano primo, senza amministratore e senza spese condominali. L'appartamento attualmente è suddiviso in tre locali, abbiamo l'ingresso su quella che è la cucina, troviamo un soggiorno, una camera matrimoniale ed il bagno, oltre al ripostiglio. Ma si può tranquillamente trasformare per ottenere due camere da letto. Ed esternamente abbiamo questo terrazzo che si affaccia sul verde di oltre 50 metri quadrati. È vero, ci sono dei lavori da fare, in quanto l'ultimo intervento è del 2005-2006, ma in questo momento si possono sfruttare gli ecobonus. Quindi, si può comprare un appartamento con meno di 30.000 euro? Beh, sfruttando il bando della regione Emilia Romagna? Sì, si può. Sono sicuro che questa visita virtuale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita! Grazie a tutti!